Enterprise, 25 anni in viaggio con voi. Festeggia con noi il 25esimo anno di attività. Ti aspettiamo in agenzia a Pesaro e a Lucrezia con un simpatico omaggio. Enterprise, da 25 anni, orgogliosi di farvi viaggiare. Tra la manciata delle uccioline e doni fin, sfameremo il nostro popolo, salone, prosciutti, salami e salciccia secca a volontà. Forza gente, venite al tavolo che è cominciato sulla tovola. Oh, Mark Band, eh? Tutti i sabbi, tre domeniche, ma chi ha la cooperativa Treponti? Galleria O'Sha, il centro commerciale dei fanisi. Offerte e promozioni ti aspettano ogni giorno nel nostro ipermercato e nei 21 negozi. Bancomat, megaparcheggio, wifi gratuito, aree giochi per bimbi, accesso libero agli amici a quattro zampe e tanti servizi a tua disposizione. Scarica la nostra app per scoprire le offerte in corso. Ti aspettiamo 7 giorni su 7. Autoagenzia Buldrighini. Pratiche auto, moto, patenti. Presto, bene e ti conviene. Vieni a trovarci in via 27 agosto a Fano. Da oggi anche rinnovo patenti in sede. Guarda chi c'è qui stasera con me Guarda chi c'è qui stasera con me Guarda chi c'è qui stasera con me Per questa puntata di Guarda chi c'è siamo tornati a trovare gli amici del Caffè d'Arderi in piazza Andrea Costa a Fano per una puntata dedicata alla musica ma anche ai giovani in occasione dell'inizio di una collaborazione tra il Caffè d'Arderi e la Scuola di Musica Bramucci. Andiamo subito a vedere di che cosa si tratta. Andiamo subito a scoprire di che collaborazione si tratta tra il Caffè d'Arderi e la Scuola di Musica Bramucci. Lo facciamo insieme al direttore della scuola Luca Ferretti a cui do il benvenuto. Benvenuto intanto. Benvenuto, grazie. Allora Luca, com'è nata l'idea di una collaborazione tra la scuola e il Caffè d'Arderi? L'idea è nata dal fatto che i ragazzi hanno a disposizione nella nostra scuola tre saggi all'anno. Ce n'è uno di Natale, anzi il prossimo è l'occasione per citarlo, che praticamente si svolgerà il 14 dicembre, domenica 14 dicembre prossimo. Hanno anche un saggio di presso l'auditorium del Coro Polifonico Malatestiano perché siamo in collaborazione con il Coro Polifonico e l'Associazione Incanto, nello stesso stabile, al primo piano di via Arco d'Augusto numero 39. Ve ne sarà un altro in primavera e poi il tradizionale saggio di fine anno scolastico, quello estivo, dove i ragazzi ricevono anche un attestato e quindi è il saggio più importante. Però questi saggi stanno stretti ad alcuni ragazzi, quelli che studiano di più, quelli che sono più avanti negli studi e quindi avevano bisogno di altri spazi. Per cui un giorno mi è venuta l'idea di parlare con uno dei proprietari del Caffè d'Arderi, con Alden Idris, il quale è stato ben contento di ospitarci il giovedì, tutti i giovedì che vorremmo, nella sala al piano superiore. Adesso andiamo a conoscere i gruppi che si esibiscono questa sera al Caffè d'Arderi, siamo con i 505. Come vi chiamate ragazzi? Io sono Piero Piccillo, chitarra e voce, Alessandro Rovinelli, chitarra, Andrea Tredicucci, batteria e ci sarebbe diretta Diamantini al basso che oggi però non è potuta venire per problemi familiari. Da quanto tempo suonate insieme? Un anno. Prima eravamo io, lui e un altro chitarrista, poi si è giunto lui e la bassista. Che genere di musica fate? Garage rock, blues rock. Tu quanti anni hai intanto? Io ho 14 anni. E suoni da? Da 7 anni. Cosa suoni? Chitarra classica e oggi ho portato un pezzo molto, abbastanza difficile che si chiama Asturias e una canzone classica in spagnolo. Ecco, quindi ti piacciono le canzioni, la musica classica? Molto. Hai iniziato prestissimo, ha 7 anni, ma come è nata? C'era qualche musicista in casa? No, da piccolo mi hanno regalato a Natale una chitarra classica e a me mi è piaciuta tantissimo che ho voluto iniziare a suonare. Conosciamo un altro gruppo, voi chi siete? Siamo gli Enforcement Wall, io sono Camilla Motta al canto, Alessandro Schirru al basso, Francesco Savella alla chitarra e Natalia Zaieva alla chitarra ritmica. Da quanto tempo suonate insieme? Un anno, più o meno. Vi ispirate a qualche gruppo famoso? Nirvana, soprattutto. E ne abbiamo capito il genere. Esatto, sì. Conosciamo un altro gruppo, voi come vi chiamate? Siamo i Blue Wars. E chi siete? Allora, io sono Luca Vegliò a chitarra e voce, lui è Lorenzo Cristalli, chitarra e voce. Poi abbiamo altri due componenti che questa sera non saranno presenti, che sono Marco Tomasello alla batteria e Samuele Valentini al basso, che però non ci saranno questa sera. Che sono assenti oggi per un gruppo formato da quattro ragazzi. Che cosa ci fate sentire stasera? Stasera vi proporremo tre cover di brani che a noi piacciono, più un nostro inedito, quindi un brano di nostra creazione. In un momento in cui si parla tanto di educazione dei ragazzi, la musica può essere un modo sano per farli crescere. E appunto questa iniziativa nasce proprio da un'associazione genitori. Sì, infatti questa scuola è una delle tante attività dell'associazione genitori. Abbiamo la scuola di musica, abbiamo una specie di consultorio familiare con un suo responsabile, una scuola di liuteria classica, non tutti lo sanno, ma abbiamo una scuola gratuita per ragazzi, per signori anche di una certa età, che possono imparare a costruire gratuitamente uno strumento musicale, in particolare delle chitarre. Abbiamo anche un centro di ascolto per l'igienismo naturale, delle conferenze che si svolgono periodicamente sul Vangelo secondo Matteo di Pierpaolo Pasolini. Insomma tutta una serie di attività di cui la scuola rappresenta un tassello. molto importante perché questa scuola ininterrottamente, dal lontano 1976, sta per compiere anch'essa i 40 anni. Quindi sia l'Age Associazione Genitori, nata nel 1975, sia la scuola di musica Rodolfo Bramucci, intitolata uno dei primissimi insegnanti della nostra scuola, stanno per compiere entrambe i famosi 40 anni. Possiamo lasciare dei contatti della scuola per chi ci guarda? Certo, abbiamo per i giovani la pagina Facebook, il sito internet, ma chiunque può contattare la direzione, cioè il sottoscritto al 340 35 26 26 7. E concludiamo anche questa puntata di Guarda chi c'è. Io ringrazio il Caffè d'arderi di Piazza Andrea Costa che ci ha ospitato, e ringrazio i nostri sponsor che ci sostengono, che sono Tecno Legno, Tavoli e Sedie, Reverde Regini Garden, Auto Agenzia Bull Drighini e Galleria Oshan di Fano. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito. Grazie a tutti. Grazie Guarda chi c'è qui stasera con me Una produzione Zarri Comunicazione Enterprise, 25 anni in viaggio con voi Festeggia con noi il 25esimo anno di attività Ti aspettiamo in agenzia a Pesaro e a Lucrezia con un simpatico omaggio Enterprise, da 25 anni, orgogliosi di farvi viaggiare Tra la manciata del lucciolino e del lupin Sfameremo il nostro popolo, salonte, prosciutti, salami e salciccia secca a volontà Forza gente, venite al tavolo che cominciamo sulla tovola Oh, Marc Bande, eh? Tutti i sabbi, tre domeniche, ma chi ha la cooperativa Treponti? Galleria Osham, il centro commerciale dei fanisi Offerte e promozioni ti aspettano ogni giorno nel nostro ipermercato e nei 21 negozi Bancomat, megaparcheggio, wifi gratuito, aree giochi per bimbi Accesso libero agli amici a quattro zampe e tanti servizi a tua disposizione Scarica la nostra app per scoprire le offerte in corso Ti aspettiamo 7 giorni su 7 Autoagenzia Buldrighini Pratiche auto, moto, patenti Presto, bene e ti conviene Vieni a trovarci in via 27 agosto a Fano Da oggi anche il rinnovo patenti in sede Vieni a trovarci in via 28 agosto a Fano